da voler accettare il nostro invito anche in questo contesto così strano di zone rosse, zone arancioni in cui ci troviamo, ma nonostante questo il Collegio Chislieri sta portando avanti una serie di lezioni, conferenze, cicli e quello di questa sera si preannuncia essere particolarmente interessante. Particolarmente interessante perché la professoressa Donatella Campus, che insegna all'Università di Bologna, insegna comunicazione politica all'Università di Bologna, ha recentemente pubblicato presso il mulino questa interessante monografia sullo stile del leader. E abbiamo proprio voluto invitarla perché ci potesse parlare della comunicazione del leader e della sua evoluzione, come recita il titolo della conferenza di questa sera, dalla democrazia dei partiti a quella del pubblico. Io, visto che siamo in modalità online e non c'è bisogno di nessun quarto d'ora accademico, lascio subito la parola alla professoressa Campus e al termine della sua lezione potremo, se qualcuno di voi sarà interessato, potrà naturalmente porre delle domande. Grazie ancora e buon ascolto. Molte grazie, devo dire ringrazio dell'invito, sono contenta di essere con voi così anche in questa modalità virtuale, devo dire, ovviamente come stavo dicendo prima all'ospite che mi dispiace non poter essere lì, peraltro io sono stata ospite del collegio circa un anno e mezzo fa forse, adesso ovviamente le date ormai con questo lockdown siamo tutti un po', cioè io mi accorgo di iniziare ad avere qualche problema a ricostruire gli eventi in modo temporale preciso perché è come se fossimo sospesi, no? Però effettivamente non è tanto tempo fa ed è stata una bellissima esperienza, peraltro quindi appunto mi rammarico che questa volta la dobbiamo invece gestire in questo modo, ma mi fa comunque molto piacere essere lo stesso con voi. e quindi ho accolto volentieri l'invito, so appunto come stavo dicendo mentre stavate entrando, so appunto che voi siete una platea abbastanza eterogenea, di persone quindi che studiano cose diverse, però penso anche che essendo voi comunque persone istruite, persone colte, presumo anche interessate, quantomeno perché siete venuti qua stasera, quindi l'argomento in qualche modo vi interessa, credo che tutti voi abbiate spesso sentito da parte di studiosi, ma da parte anche di giornalisti, da parte a volte anche degli stessi politici, dire che la politica oggi è molto personalizzata, no? Cioè è che quindi il fattore personale è diventato più importante, che questo è anche avvenuto in coincidenza con la crisi dei partiti, questa è una, ovviamente è una semplificazione che ha una parte di verità, però anche appunto va un po' elaborata e quindi quello che cercherò di fare io in questa oretta, in cui staremo insomma in compagnia e vi racconterò alcune cose, è proprio questo, cioè di commentare sostanzialmente questa affermazione, cioè è vero che la politica oggi è così personalizzata, è vero che le persone hanno preso il posto dei partiti, è vero che i leader hanno preso il posto dei partiti, perché stasera parleremo appunto di leader politici e quindi partiamo da qua. E per prima cosa dirò questo, in realtà le persone sono sempre contate, no? Non è vero che le persone in politica non contano o che contano oggi, ieri non contavano, questo sarebbe una falsità e questo quantomeno per una ragione molto basilare, cioè nelle democrazie rappresentative noi comunque sia alla fine eleggiamo delle persone e quindi in qualche modo l'immagine della persona, le sue caratteristiche ha sempre avuto un peso. Ovviamente poi bisogna anche proprio, io ho parlato della questione dell'elezione, non a caso, perché i sistemi elettorali contano, contano perché laddove tu eleggi direttamente, per esempio, il capo dell'esecutivo, è chiaro che un'attenzione verso il candidato, verso le sue caratteristiche, c'è sempre stata più che in quei paesi, per esempio dove non si elegge il capo dell'esecutivo, ma si elegge solo un Parlamento. Quindi è ovvio che se noi andiamo indietro nei decenni scorsi e prendiamo, non so, un periodo come gli anni Sessanta, gli anni Settanta, è evidente che in un paese come gli Stati Uniti o la Francia, quando già si eleggevano i presidenti della Repubblica, i presidenti degli Stati Uniti, comunque quelle erano campagne personalizzate, fortemente personalizzate. Ovviamente i modi e le forme cambiano, però erano personalizzate negli anni Sessanta come sono personalizzate oggi. In altri contesti è una questione un po' differente. Guardiamo proprio all'Italia, che in qualche modo rappresenta l'estrema opposto. Cioè l'Italia è un sistema parlamentare, un sistema parlamentare dove l'identità del capo dell'esecutivo, quindi del primo ministro, non è necessariamente nota già durante la campagna elettorale. Perché il nostro non è un sistema parlamentare, come il cosiddetto sistema Westminster, cioè il sistema alla britannica, dove ci sono due partiti, c'è un'elezione, uno dei due partiti vince, il capo del partito diventa anche primo ministro. Noi sappiamo che in Italia non è sempre stato così, anzi c'è stato un lungo periodo in cui non è stato così, poi c'è stata una fase invece in cui sono accadute delle cose, però in realtà il sistema è sempre rimasto il medesimo, ma semplicemente una serie di contingenze politiche, quindi circostanze hanno permesso invece che ci fosse in qualche modo una associazione stretta tra quelli che erano i capi delle coalizioni elettorali e quelli che poi in caso di vittoria avrebbero assunto la leadership del governo, però in realtà la storia molto recente ci mostra che anche quella è stata una fase, proprio perché dal punto di vista istituzionale nulla è cambiato e infatti Conte nessuno prima delle elezioni lo conosceva, è stata una scelta che è venuta successivamente in un periodo post-elettorale dopo che si è formata una coalizione tra partiti. Quindi questa premessa è semplicemente per dire che tutto ciò che diciamo ha una sua validità generale, ma poi va anche calato in un contesto particolare, cioè bisogna vedere in ogni singolo paese qual è appunto l'assetto istituzionale, quali sono le circostanze politiche, perché ci sono dei fattori predisponenti e invece dei fattori in qualche modo frenanti. Detto questo però, resta sicuramente vero che questo trend di personalizzazione c'è, però anche qua dobbiamo capirci. Dobbiamo capirci perché non è che in precedenza, quindi per esempio nel novecento, i leader non fossero costruttori di consenso, i leader dei partiti per esempio, no, lo erano anche in quel caso, però avevano alle spalle dei partiti forti. Cosa significa questo? Significa che c'erano delle situazioni differenti, sicuramente ci sono stati dei leader più predisposti, migliori comunicatori, altri un po' meno. I partiti sapevano anche indirizzare. In questo periodo io sto scrivendo un libro che è molto concentrato sui casi di, io le chiamo leadership duali. Quindi mi sono imbattuta in un caso che conoscevo ma non abbastanza superficialmente che invece ho studiato meglio, che è interessante dal nostro punto di vista perché è un caso, è il caso di Felipe González, primo ministro spagnolo nel periodo post-franchista, capo del Partito Socialista. Quello per esempio è stata una fase in cui il Partito Socialista è stato lungo al potere, partito forte, partito nel quale c'era una distribuzione, come dire, proprio quasi una diffusione del lavoro, per cui González era il leader formale, intanto per cominciare, cioè leader di partito e primo ministro, ma contemporaneamente c'era un'altra persona, Alfonso Guerra, che si occupava del partito ed avevano, in effetti, i due avevano un rapporto quasi alla pari. Questo cosa significa? Significa che in una fase di democrazia dei partiti i partiti sapevano anche in qualche maniera, cioè avveniva anche spontaneamente che ci fosse una divisione del lavoro secondo anche le predisposizioni. González è stato un grande comunicatore, González era quello che appunto era il leader all'esterno, era quello che costruiva il consenso, era il primo ministro, poi dentro al partito c'era qualcuno che reggeva l'organizzazione. Quindi sarebbe, come dire, sarebbe falso dire, i leader di oggi sono tutti grandi comunicatori, in passato invece i leader non facevano comunicazione perché tanto bastava il partito. No, anche in passato i leader facevano comunicazione, anche in passato la loro immagine, la loro personalità contava, però effettivamente è vero che è cambiato qualcosa da quella che noi chiamiamo la democrazia dei partiti a quella che noi chiamiamo la democrazia del pubblico. E queste due definizioni, non le invento io, ma vengono da un autore francese che si chiama Bernard Manin, che è piuttosto noto e che è appunto famoso per diversi iscritti, ma prevalentemente è molto, è veramente circolata molto questa definizione della democrazia del pubblico. Perché lui dice appunto, quando i partiti entrano in crisi, evidentemente quello che era il fattore di lungo periodo, cioè nella costruzione del consenso c'era questo senso di appartenenza in qualche maniera a un partito, diventa più debole e quindi a quel punto altri elementi, tra cui da un lato i leader, ma dall'altro anche i programmi, cioè le proposte diciamo più estemporane, cioè quelle che il partito è in grado di fare durante una campagna elettorale, contano di più. Perché appunto è un rapporto che si crea col pubblico e il pubblico guarda da pubblico, cioè più che guardare da militante. Quindi è questo effettivamente il nodo cruciale, il cambiamento che c'è tra passato e presente, che prima c'era una militanza. Poi poteva succedere anche allora che in alcuni casi il fattore personale contasse di più, perché ci sono state a volte elezioni, come dire, devianti. Pensiamo agli Stati Uniti. Se negli Stati Uniti ci fosse sempre stato solo un voto basato sempre esclusivamente sull'identificazione di partito, per un lungo periodo non ci sarebbero mai stati presidenti repubblicani. Perché c'è stato un lungo periodo da Roosevelt, almeno fino agli anni Ottanta, cioè è Reagan che rompe davvero, cioè è colui che veramente porta a compimento in qualche maniera il cambiamento, ma fino a quel momento il Partito Democratico è più forte, ha una maggioranza sostanzialmente di elettori identificati, però capita a volte che venga eletto un presidente repubblicano. Evidentemente in quel caso succede qualcosa e il fattore personale evidentemente ha un po' più di peso rispetto a prima, però sempre in un contesto di democrazia dei partiti, sempre in un contesto in cui l'attaccamento al partito, l'attaccamento all'ideologia è un fattore di lungo periodo, è un fattore di stabilità. Poi chiaramente c'è la stabilità e su questa stabilità ci possono essere delle fluttuazioni. Quando viene meno tutto questo? Evidentemente c'è quasi un effetto di sostituzione, no? Cioè a quel punto il partito diventa sempre meno costruttore del consenso o quantomeno deve costruirselo volta per volta, cioè non può più contare su questi elettori che sono fedeli proprio per tutta la loro vita e quindi il fatto di avere un leader che sappia comunicare diventa più importante. Quindi ecco perché si parla di personalizzazione, però bisogna capire che cos'è la personalizzazione, perché la personalizzazione è un concetto anche sfaccettato, perché da un lato noi la possiamo guardare dal punto di vista che è quello che vi ho raccontato finora, no? Cioè come ci si autopersonalizza, cioè come si costruisce la propaganda. Cioè la propaganda diventa qualcosa in cui l'immagine del leader diventa più forte. Come vi ho detto prima, in realtà da questo punto di vista anche in passato c'erano lezioni dove già questo fattore era molto evidente. Però per esempio in Italia lì la cesura è molto chiara e avviene in un punto preciso, cioè avviene sostanzialmente con qualche prodromo alla fine degli anni Ottanta, ma davvero il cambiamento c'è nel momento in cui c'è la crisi del sistema dei partiti. Tangentopoli, voi siete penso tutti molto giovani, quindi nessuno di voi l'ha vissuta in prima battuta come l'ho vissuta io, che ero giovane quanto voi all'epoca, ero una studentessa universitaria e mi ricordo molto bene appunto la rivoluzione di quella fase. Il risultato quale fu? Che nel momento successivo, quando il sistema dei partiti è nella piena fase di fermento, di cambiamento, nuovi partiti, evoluzioni, metamorfosi e quant'altro, a quel punto la comunicazione inizia a diventare molto leader centrica. C'è un personaggio che sicuramente fa da traino che è Silvio Berlusconi, ma anche il resto del sistema si adatta e quindi improvvisamente noi iniziamo a vedere una comunicazione che è molto meno partito centrica, molto più candidato centrica, leader centrica. Quindi da un lato c'è questo aspetto della propaganda, cioè di come si costruisce il consenso. Dall'altro c'è l'aspetto di come i media recepiscono e quindi la presenza appunto nei media del fattore personale, cioè quanto la persona conta più, cioè inizia a contare più di altri fattori, più di contenuto, quindi anche più legati a ideologie e legati ai problemi. C'è però un'altra distinzione importante da fare quando parliamo di personalizzazione, e cioè che da un lato è il tema della centralità della persona e come ho cercato di spiegarvi, in realtà questa c'è sempre parzialmente stata. Nel senso che un tempo i partiti erano forti, ma lo stesso comunque avevano dei leader che erano protagonisti. oggi magari i partiti sono meno forti, i leader restano protagonisti. Cosa cambia però? Perché qualcosa cambia in maniera rilevante, nel senso che alcuni decenni fa, se anche un leader era protagonista, lo era soprattutto nella sua veste politico-istituzionale. Cioè non è che 40 anni fa, 50 anni fa, per esempio, il leader politico non andasse in televisione o non rilasciasse interviste o non fosse in qualche modo presente, cioè presente nell'ambito della discussione pubblica, però lo era in maniera più formale, cioè era lì per parlare di politica. Oggi la questione cambia, cioè quello che davvero è cambiato, è l'aspetto della personalizzazione che potremmo chiamare privatizzazione. Qualcuno dice proprio che la personalizzazione è fatta di due elementi, questi due che vi ho appena raccontato. Qualcun altro dice la personalizzazione è la prima cosa che vi ho raccontato e poi c'è un ulteriore fenomeno che è la privatizzazione o l'intimizzazione. Sono sfumature. L'importante è capire che sono due cose diverse, cioè che c'è una presenza che è relativa al tuo ruolo pubblico e c'è una presenza che invece investe una serie di aspetti che sono aspetti privati. Cioè viene meno a un certo punto quella linea di separazione tra il pubblico e il privato. Viene meno e quindi il politico oggi ha un'esigenza di mostrarsi non soltanto una persona preparata e quindi in grado di fare il lavoro che si trova a svolgere, ma anche vuole mostrarsi nella sua umanità, lo human side. Si vuole umanizzare, vuole far vedere che come noi, vuole condividere con noi una parte del privato. Anche qua, siccome niente viene mai dal nulla, è chiaro che se andiamo indietro, qualche prodromo c'è sempre anche in passato di questo fenomeno. Vi cito un caso perché è molto attuale, no? Voi sapete che ieri è scompasso Giscard d'Estaing, presidente francese. Ora, Giscard d'Estaing da questo punto di vista è stato un pioniere, perché cosa faceva Giscard d'Estaing? Questa è una cosa che mi ha segnalato un mio collega francese, perché quando gli raccontavo che io studiavo la celebrità dei politici, poi a questo ci arriveremo, perché questo è l'ambito di cui mi sto occupando adesso, e lui, e quindi parlavamo dei casi di celebrità politiche francesi attuali, e lui mi fa, ma lo sai di Giscard d'Estaing che organizzava questi pranzi a casa di cittadini francesi e poi la televisione raccontava, intervistava, insomma c'era questa abitudine che lui aveva lanciato del presidente che andava a incontrare i cittadini francesi e andava a pranzo a casa di cittadini comuni. Ecco, questa è effettivamente una cosa pioneristica, cioè nel senso che Giscard d'Estaing allora ha fatto qualcosa che oggi i nostri politici fanno comunemente. Cioè non si contano esempi di questo genere, no? esempi in cui il politico vuole mettersi in un contatto diretto con i cittadini, con i propri elettori, con i propri militanti e lo fa in tantissime forme. E qua veniamo proprio anche al grande cambiamento, perché cioè la comunicazione politica si è evoluta e quindi la personalizzazione ha acquisito forme nuove. Perché le ha acquisite? Intanto per cominciare perché prima c'è stata la televisione, poi la televisione è anch'essa cambiata perché è passata da una fase in cui era la televisione generalista, no? Quindi pochi canali, alla fase invece dei tanti canali anche tematici, prima l'informazione 24 su 24, prima Grande Rivoluzione, poi canali tematici, ma soprattutto quello che è cambiato è stato il fatto che la politica è esondata dal suo alveo naturale che è quello dell'informazione ed è esondata appunto ed è andata a invadere in qualche modo settori che non sono quelli della politica ma che sono quelli del entertaining. Al tempo stesso però anche l'informazione è parzialmente cambiata dando vita a quello che si chiama con una crasi infotainment, cioè il mix di informazione e entertaining. Quindi ormai noi abbiamo tantissime arene entro le quali il politico può muoversi e anche qua bisogna capire che io ho detto prima invaso, però attenzione perché non si tratta di un'invasione di uno spazio che non voleva farsi invadere, è piuttosto come dire un incontro di interessi nel senso che sia l'infotainment sia anche il vero entertaining hanno capito che la politica può avere degli aspetti interessanti e che quindi si può come dire tra virgolette vendere anche a un pubblico non interessato in politica, cioè il personaggio politico se è un personaggio che ha una storia da raccontare può essere messo alla pari di una celebrità. Quindi diventa interessante, al tempo stesso il politico ha capito che questi spazi consentono di entrare in contatto con un pubblico che non è il pubblico che incontri andando a fare comizi, cioè non è il pubblico che incontreresti comunque. Quindi il risultato qual è? Che c'è stata una moltiplicazione delle arene perché oggi il politico cosa deve fare? Deve sapersi muovere nell'arena istituzionale propria, deve però saper anche muoversi in tutte le arene mediatiche che sono molteplici perché voi appunto considerate la sta, cioè diciamo i media cosetti mainstream, quelli che ancora sono quelli che fanno informazione e naturalmente che sono articolati in vari modi, in varie modalità, su vari strumenti, stampa, televisione e anche la rete perché poi comunque questi sono anche piattaforme e outlet che arrivano anche sulla rete. E poi abbiamo tutto il mondo della rete, cioè tutto quindi il mondo dei social networks. Quindi noi abbiamo un enorme, come dire, proprio territorio che il politico deve se non proprio tenere sotto controllo o comunque mostrare di sapere in qualche forma gestire. E quindi questo chiaramente ha cambiato molto la comunicazione, imponendo anche al leader una enfasi maggiore sul suo lato personale perché naturalmente alcuni di questi, di queste arene in realtà non sono interessati al politico solo nella sua veste istituzionale ma sono interessati al politico proprio in quest'altra forma che vi narravo prima, cioè nella sua, quella che è il suo lato diciamo umano, quindi il suo saper essere anche celebrità da questo punto di vista e quindi in quelle arene lì il politico deve sapersi muovere in un certo modo. Cioè tu non puoi andare ospite in un programma di praticamente intrattenimento, un improgramma generalista cioè che alterna appunto momenti di spettacolo all'intervista pensando di fare l'intervista super colta, super articolata, dovrai accettare un'intervista in cui in parte parli di te, in parte magari riesci a veicolare anche qualche contenuto semplificato di natura politica che ti possa servire per corpire l'attenzione appunto di eventuali, di un eventuale pubblico magari un po' distratto che però si incuriosisce. Quindi considerate appunto anche degli spazi che sembrerebbero spazi lontanissimi dalla politica ma ad esempio anche tutta quella che è una stampa che non ha nulla a che fare nemmeno con l'informazione ma appunto è una stampa di popolare, quelli che sono i fotonews magazine ma anche addirittura i settimanali di gossip e voi date un'occhiata e troverete che anche sul settimanale di gossip c'è a volte il politico in copertina, a volte l'intervista, a volte il servizio, cioè in forme e modi vari noi abbiamo questo tipo di presenza. Quindi riassumendo tutto ciò cosa possiamo dire? Che oggi lo spazio comunicativo di un leader ha una serie, cioè pone al leader una serie di sfide. La prima è sicuramente quella di saper affrontare questa complessità che vi ho raccontato. Quindi tante arene dove naturalmente il politico deve sapersi muovere anche sviluppando delle expertise diverse perché come dicevo prima c'è tu non puoi pensare di essere la stessa, di usare la stessa cifra anche comunicativa o retorica quando fai il discorso in Parlamento e quando fai invece la battuta su Twitter. Cioè ogni arena ha le sue specificità. Questo comporta versatilità però al tempo stesso coerenza perché tu è vero che devi adattarti al mezzo ma non puoi neanche essere persone completamente diverse altrimenti si rischia quasi la schizofrenia. Quindi è un'arte quella di essere coerenti cioè di avere un'immagine che comunque mantiene una certa coerenza ma al tempo stesso appunto di saper giocare su tanti piani. E vi assicuro che non sono pochi cioè perché appunto ribadisco anche gli stessi guardate soltanto social networks cioè guardate il tipo di social media e che cosa richiede cosa richiedono perché tu comunque non puoi avere la stessa comunicazione su Facebook e la stessa su Instagram o su TikTok cioè ognuno richiede una modalità diversa anche perché puoi rischiare di essere addirittura ridicolo se vuoi fare il super giovanilista su social che non sai utilizzare. Cioè devi calibrare molto bene le tue presenze e quindi già anche solo soltanto i social media sono un universo variegato. Quindi il problema di una versatilità è al tempo stesso però senza mostrare eccessive contraddizioni tra l'immagine che si pone in un contesto e quella che si pone in un altro. Tutto questo in realtà comporta anche molta complessità perché voi capite che se facciamo un confronto tra il mondo mediatico degli anni che so 80 anche non andiamo neanche tanto più indietro. Comunque negli anni 80 il protagonista assoluto cioè il simbolo diciamo del leader mediatico è Ronald Reagan. Ronald Reagan che inaugura quello c'era già però diciamo porta effettivamente la sua apoteosi quello che viene chiamato il going public. Cosa significa? Ronald Reagan fa dei grandi discorsi televisivi alla nazione per esporre le sue politiche e quindi per costruirsi un consenso parlando direttamente ai cittadini. Cioè voi potete capire il tipo di ascolto che in quella fase cioè potete capire non so se lo potete capire perché voi siete giovani e non avete la memoria di quello che poteva essere allora appunto un ambiente mediatico molto più semplice però quello che vi racconto provate a immaginarvelo. C'è un presidente in prime time quindi nell'orario di punta che va in televisione parla. Cioè in quel momento la televisione è assolutamente il mezzo principale. Dopodiché cosa poteva succedere di quel discorso? Il discorso veniva scontato il giorno dopo c'erano i commenti sulla stampa. Quindi capite anche là cioè come veniva in qualche maniera temporalmente dilazionata la comunicazione. Cioè oggi qualunque cosa accada la diretta di facebook piuttosto che il discorso televisivo immediatamente parte il commento e parte subito parte sui social e viene da più voci perché naturalmente è vero che mass media quindi la stampa intesa come mondo del giornalismo ancora hanno una funzione molto importante di interpretazione però è anche vero che qualunque cittadino può lanciare un tweet in cui fa il commento mentre il primo ministro sta facendo un discorso. Quindi c'è stata la moltiplicazione delle voci la complessità della comunicazione quindi mentre negli anni 80 il leader diciamo parlava forte chiaro perché nella sua posizione un presidente degli Stati Uniti, un presidente della Repubblica, un primo ministro, cioè aveva tutto focalizzato, un'attenzione molto focalizzata su di sé. Questo non significa che non ci potesse essere anche contestazione però c'era comunque una fortissima concentrazione dell'attenzione. Oggi perfino il presidente degli Stati Uniti che è sicuramente in una posizione di grande privilegio in realtà rischia di che la sua voce un po' si perda nel clamore generale, nel rumore di fondo e nel clamore generale. Cioè quindi in realtà riuscire a comunicare, cioè a far passare un messaggio oggi è molto più complesso di quanto fosse prima. Quindi è sicuramente molto più complicata la vita del comunicatore oggi di quanto potesse essere alcuni decenni fa dove intanto per cominciare il leader sì era costruttore di consenso ma sicuramente aveva anche le spalle più coperte appunto da una solidità e da una stabilità nel gradimento e nelle intenzioni di voto degli elettori. Oggi deve continuamente preoccuparsi invece di riuscire a mantenersi popolare perché è fondamentale la popolarità e contemporaneamente deve riuscire a fare tutte queste cose che io vi ho descritto. Quindi indubbiamente comunicare è un challenge notevole, è una sfida notevole. Quindi il povero leader diciamo attuale è un, dico povero leader, lo dico un po' unicamente però penso anche effettivamente che oggi la leadership sia complessa, effettivamente ha un lavoro complesso e poi anche delle aspettative molto alte. Ha delle aspettative alte di cui non è ovviamente c'è non è che il sistema politico è innocente cioè nel senso che ha fatto poi di tutto per andare anche in quella direzione e perché naturalmente appunto i mezzi offerti dalla comunicazione sono risultati estremamente attraenti per i politici cioè hanno intravisto in uno sforzo comunicativo molto intenso la scorciatoia per costruire il consenso e quindi hanno premuto come dire il pedale in questa direzione e questo è accaduto in tanti paesi quindi possiamo guardare il caso italiano ma possiamo guardare anche diversi altri però poi dopo c'è anche come dire un ritorno che non è sempre un ritorno positivo cioè o comunque non sempre un ritorno vantaggioso perché naturalmente più tu accentri l'attenzione su una persona poi più a quella persona si guarda per avere dei risultati quindi le aspettative sono alte le aspettative sulla leadership sono alte e disattenderle è più facile anche perché appunto nuovamente come dicevo prima sono tanti gli ambiti rispetto ai quali tu ti devi mostrare all'altezza e stavo proprio rileggendo in questi giorni la vicenda del passaggio tra Tony Blair e Gordon Brown che è piuttosto istruttiva nel senso che adesso non so quanto di nuovo essendo voi giovani forse non vi ricordate nemmeno tanto bene quegli anni stiamo parlando eh del degli anni eh a cavallo tra la fine degli anni novanta e all'inizio degli anni duemila cosa accadde in quel caso Gordon Blair e Tony scusate Gordon Blair e Gordon Brown erano due giovani politici che eh a un certo punto eh insieme anche altri creano un gruppo e eh lanciano un progetto che si chiama New Labour cioè vogliono riformare il partito laborista e ci riescono ci riescono e ancora molto giovani eh si impossessano prima del partito poi appunto vince il partito laborista vince le elezioni Tony Blair diventa primo ministro Gordon Brown continua però a essere al fianco di Tony Blair sarà il cancelliere quindi sostanzialmente il ministro delle finanze diciamo inglese inglese scusate britannico e e per molti anni quindi eh la cosa va avanti in questo modo fino a che nel duemila e sette e per varie vicende che adesso non ricostruisco c'è la staffetta no quindi Blair si ritira e diventa primo ministro Brown cosa è successo negli anni di della della premiership di Blair è successo che già Margaret Thatcher aveva iniziato una svolta comunicativa forte e quindi è stata lei la prima realtà che inizia a usare il marketing elettorale cioè anche tecnologie nuove diciamo per affrontare appunto la comunicazione e ma Blair sicuramente porta tutto questo a compimento con una un grosso investimento anche proprio in quella che è la comunicazione del governo lui sarà circondato da questi famosi spin doctors cioè questi famosi esperti di comunicazione che hanno fatto un po' la storia appunto della della consulenza politica quindi preme molto sul fattore comunicativo preme molto quindi sull'esaltazione della di una figura forte autorevole di minimi di primo ministro e quando lascia tutto questo in eredità Brown e Brown ne soffrirà non perché Brown non fosse altrettanto qualificato di Blair a assumere il governo perché di fatto aveva condiviso l'azione di governo per molti anni però era un personaggio meno come dire appariscente dal punto di vista comunicativo cioè quindi lì si vede benissimo che determinate come dire determinati cambiamenti diventano condizionanti perché poi eh quelli che eh non si riescono ad adeguare appunto anche a a questi aspetti più personali cioè scusate personali anche privatizzati della comunicazione poi finiscono col col soffrirne eh perché appunto non non è sempre così facile cioè diciamo non è sempre automatico e scontato eh fare riuscire diciamo a a a giocare anche in maniera convincente questa carta pur provandoci dopo di che è chiaro che al e con questo insomma mi avvio anche a conclusione perché più o meno vedo che all'incirca insomma il tempo che mi avete dato a disposizione sta esaurendosi e con questo quindi una vale la pena fare una un po' anche una valutazione così meno descrittiva ma anche un po' più tra virgolette normativa cioè ponendosi alcune domande cioè nel senso che io personalmente penso che non vada demonizzato l'aspetto anche eh diciamo di popolarizzazione della politica credo che vada accettata l'idea che oggi la politica è anche giocare giocare cioè spendere in qualche maniera spendersi in ambiti che non sono politici per definizione nel saper giocare con una cultura popolare che può andare quindi dalla capacità di di fare non so il videogioco eh in cui sei protagonista cosa per esempio che ha fatto Melanchon in Francia qualche anno fa per dire o piuttosto l'andare a farsi intervistare eventualmente anche non so sul giornale un po' cioè sul magazine più popolare cioè eh alcuni di queste modalità talvolta sono anche modi spiritosi se vogliamo ma non privi di contenuti cioè quindi puoi anche veicolare contenuti in questo modo non è detto che tutto ciò che appartiene a quest'ambito finisca con l'essere necessariamente superficiale questo è il messaggio che volevo mandare anche se c'è una parte di tutto questo che lo è cioè voglio dire c'è un po' di tutto in questo però si può anche provare a mandare dei messaggi politici in maniera apparentemente leggera per esempio una molto brava a fare questo che forse voi conoscerete perché è anche una vostra coetanea per certi versi è Alessandro Casoportez che è una grande utilizzatrice social network ed è una che non so magari affronta il tema delle spese per la sanità mentre parla appunto dei costi per delle cure dentistiche al suono della canzone rap quindi ciò voglio dire è una che sa mixare molto bene tutte queste cose quindi a volte tu puoi veicolare dei contenuti anche in questo senso però sicuramente bisogna essere anche anche consapevoli che puntare troppo diciamo su questa enfatizzazione forte della persona naturalmente tende molto a produrre appunto queste fiammate magari di popolarità che non hanno un fondamento poi davvero robusto cioè che non hanno radici e quindi questo può produrre una fragilità cioè nel senso che noi possiamo trovare questi leader che sanno giocarsi la carta della celebrità ma poi così come appunto le logiche della celebrità producono un ricambio molto veloce e anche quindi appunto la fiammata ma anche poi la sostituzione abbastanza rapida no cioè a un idolo se ne segue velocemente un altro cioè questo costruisce cioè delle basi un po' fragili e quindi cioè la compensazione tra questi due elementi deve esserci cioè nel senso che non si può non ci si può più chiudere nella torre burnea sarebbe insensato dire non usate social perché è chiaro che un certo uso dei social è permette di entrare in un contatto diretto con molti cittadini e anche con delle fasce che magari non sono quelle che raggiungeresti comunemente però è chiaro che poi appunto l'enfasi eccessiva sul personale può produrre anche delle recadute negative bene io posso anche fermarmi qua più o meno mi sembra che all'incirca non so dimmi tu alessandro va bene va bene naturalmente e anzi ti ringraziamo moltissimo per questo quadro che hai che hai delineato su quello che è appunto la natura del leader di oggi tutto sommato dando anche un quadro non così pessimistico su su quella che è appunto la comunicazione sociale trovo trovo molto 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 istruttivo ed interessante io ora darò a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire parlando dal momento che abbiamo abbiamo disattivato la chat naturalmente non siete obbligati ad accendere ad accendere anche la telecamera però siete naturalmente come dire dovete quantomeno usare la voce se volete comunicare quindi io faccio questo nel frattempo o meglio attivo tutte e tutti permetto a tutti di attivare i microfoni nel frattempo nel frattempo pongo una una domanda una domanda a donatella vale a dire qualche tempo fa a me è capitato di sentire a parlare maroni del suo mestiere di politico ha fatto un intervento a mio parere piuttosto interessante diceva fino a qualche tempo fa il mio mestiere da ministro degli esteri comunicativamente parlando terminava alle 18 e 30 perché poi bisognava andare sul tg1 ma dopo le 18 e 30 la mia squadra diciamo così l'ufficio stampa le persone che appunto si occupavano della mia comunicazione potevo mandarle a casa nel giro di un decennio poco più è cambiato tutto il politico comunica 24 ore su 24 e penso soprattutto a Matteo Salvini che comunica anche in piena notte in tarda notte ecco io volevo chiederti quanto l'aspetto come dire della gestione dell'orologio del politico possa aver influenzato la trasformazione del suo personaggio e ti rispondo così magari intanto poi anche tu vedi fai un po' la scaletta degli interventi ma indubbiamente questo è verissimo cioè chi si occupa di campagne elettorali ti dirà per esempio che non dormi praticamente mai perché comunque devi già o quantomeno già puoi dormire molto poco perché devi seguire fino a tarda ora ma anche svegliarti altrettanto prestissimo alla mattina cioè le campagne elettorali se ormai sono praticamente 24 ore su 24 perché è un è un continuo flusso informativo questo è stata come dire un è un trend che è stato progressivo nel tempo e cioè non è neanche una questione proprio degli ultimi tempi ma si è andati sempre di più intensificando quindi c'è la velocità che è un po' l'altro risvolto della della complessità e proprio perché poi appunto come dicevo prima no cioè tu per esempio fai stai facendo il discorso immediatamente e parte tutto il tam tam del commento sul discorso cioè c'è questo anche effetto come dire del dual screen no che non è solo in politica cioè ormai la gente guarda non so il programma televisivo e poi c'è il telefono in mano immediatamente c'è attituità commenta eccetera quindi c'è questa velocità per cui il politico deve sempre reagire è chiaro cioè tu non puoi stare tante ore senza reagire per esempio a una provocazione o anche o anche perdere diciamo l'occasione di intervenire per esempio in una discussione che si apre rispetto alla quale tu puoi dire la tua quindi è evidente che l'iperattivismo paga in questo senso perché non ti puoi permettere di rimanere indietro però appunto l'altro risvolto è anche proprio in parte quello che dicevo prima cioè che diventa anche un grande rumore di fondo nel quale poi è difficile far ascoltare la propria voce sulle cose importanti cioè nella misura in cui poi ogni cosa si brucia anche molto velocemente anche ogni come di c'è sempre stato per dire il principio per cui non so esplode un caso si inizia a discutere di qualcosa poi dopo arriva anche volutamente la distrazione arriva all'altra cosa allora non se ne parla più e questo non significa che i problemi poi sono risolti no spesso rimangono lì cioè questo è sempre successo è solo che in questo da certi punti di vista ovviamente l'accelerazione produce una disfunzionalità perché i tempi della politica vera cioè i tempi comunque di un processo di decision making non sono i tempi della comunicazione cioè sono necessariamente tempi più lunghi cioè che richiedono anche un processo deliberativo e quindi è ovvio che tutto questo crea un problema crea un problema perché c'è una discrasia proprio è molto forte che diventa sempre più forte grazie ecco ora se c'è se c'è qualcuno che volesse portare qualche qualche domanda allora lo o la pagherei di attivare il proprio microfono eventualmente accendere la propria la propria telecamera la professoressa campus sarà sarà contenta di rispondere dalla sua disponibilità a rispondere nessuno rompe il ghiaccio è ma la timidezza la timidezza di zoom è ancora più forte della timidezza diciamo di persona è io avrei una domanda sofia prego volevo ricollegarmi a quello che stava dicendo sul rumore di fondo e la difficoltà che adesso fa cioè prova i leader nel cercare di diciamo sovrastare anche l'opinione pubblica e spesso sentiamo dire che internet è lo strumento più democratico di cui disponiamo che ha dato la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione ponendosi sostanzialmente tutti sullo stesso piano ecco però appunto l'altro risvolto è questo ovvero il fatto che il leader faccia più fatica a polarizzare l'attenzione magari dell'opinione pubblica sulla sua opinione sul suo tweet sul suo post di facebook ecco quindi la mia domanda è internet in questo modo ha in qualche modo messo in crisi un modello democratico che noi eravamo abituati a conoscere con cui eravamo abituati a interagire in cui comunque il leader aveva un peso maggiore riusciva a spiccare oppure ci sta dimostrando che cosa può essere davvero una democrazia diretta quasi ideale dove tutti riescono ad esprimere la propria opinione ok la ringrazio ci sono molte cose dentro la sua domanda nel senso che lei solleva molti punti iniziamo a parlare un attimo di internet come agente di democraticità perché vanno fatte alcune osservazioni nel senso che è sicuramente vero che internet ha cambiato insomma moltissimo le interazioni ad ogni livello e offre l'opportunità di partecipare in vari modi adesso io non entro in tutte le forme rispetto alle quali internet favorisce la partecipazione politica perché chiaro che dovremmo a questo punto parlare per esempio di come può agevolare ad esempio le attività di un movimento no anche permettendo a persone che stanno in posti diversi di incontrarsi non so basta pensare cioè voi pensate al caso per esempio il momento 5 stelle cioè è ovvio che il blog di grillo per esempio è stato un hub per permettere la nascita appunto di un movimento quindi c'è internet ha sicuramente cambiato e offre moltissime possibilità di partecipare che prima non c'erano però lascio un attimo da parte questi aspetti e mi concentro più su quello che lei ha detto cioè della serie ma noi siamo tutti uguali mentre parliamo su internet quando interagiamo con il leader non so se proprio questo sia vero nel senso che il leader ha la possibilità di interagire ma lo fa moderatamente cioè nel senso che ancora oggi molti politici utilizzano i social per parlare cioè mandare messaggi ma attenzione cioè il mandare messaggio non significa parlare veramente interagire veramente non sono molti quelli che sui social interagiscono e questa è una prima cosa da sottolineare perché questo non toglie che l'utilizzo del del di un social network può essere comunque estremamente influente cioè nel senso che saper usare un social network in un certo modo e le facebook piuttosto che non so l'uso di twitter alla trump cioè sono comunque delle cose che pesano rispetto alla costruzione anche dell'immagine del leader dico soltanto che non è che è sempre un'interazione alla pari cioè nel senso che in moltissimi casi in realtà è sempre un'interazione di tipo top down cioè c'è un leader che parla manda messaggi utilizza il social media secondo le modalità che social media gli offre gli altri sono spettatori ok quindi bisogna considerare questo poi ci sono per esempio dei social tipo twitter che non so se voi siete su twitter perché non è che poi twitter così frequentato dalle persone della vostra età perché io vedo che io faccio spesso un sondaggio con i miei studenti e vedo che ormai molti sono su facebook molti sono su instagram twitter per esempio un po meno è meno frequentato d'altronde anche più elitario però per esempio su twitter chi lo studia ha studiato le reti ha scoperto questo cioè che a livello per esempio di politica c'è una certa interazione tra persone che comunque già appartengono a un circuito politico mediale cioè il politico parla con i giornalisti cioè parla con persone comunque che appartengono al suo ambiente anche fuori dal social cioè parla meno col cittadino ci sono pochi quelli che parlano con i cittadini comuni cioè c'è ancora un'idea di un ambito relativamente chiuso rispetto al quale tutti noi che possiamo seguire seguiamo però appunto seguiamo come spettatori quindi ancora questo elemento c'è rispetto al modo in cui i leaders si interfaccia diciamo con i suoi followers però ciò nonostante ciò nonostante le logiche della celebrità funzionano perché poi comunque anche le logiche della celebrità sono logiche in cui la celebrità offre se stessa in qualche maniera a un consumo e c'è uno spettatore c'è un pubblico c'è qualcuno che guarda poi ci sono anche degli elementi appunto talvolta invece di interazione anche creata però ricordiamoci appunto che non è che c'è questa orizzontalità e questa interazione sempre perfettamente alla pari e con questo va detto dopodiché lei mi diceva ma però internet ovviamente può essere anche in qualche maniera una offre la possibilità anche di promuovere invece delle forme bottom up sì certamente cioè è chiaro che internet per esempio offre delle delle possibilità di mettere di sperimentare forme anche di democrazia diretta e democrazia partecipativa che sono agevolate dallo strumento della rete però questo è un altro discorso ancora quindi terrei un attimo separati piani e io credo che il tipo di interazione che che si crea sul sulla social appunto debba essere considerato eh da tutti questi punti di vista cioè non si può mh pensare appunto che semplicemente perché io posso stare su twitter e mandare un tweet e indirizzarlo al leader o necessario sono diventato suo amico anche se in realtà è questo è proprio l'effetto che si vuole produrre cioè nel senso che l'effetto che questo tipo di comunicazione vorrebbe produrre è quello di renderci queste persone persone intime e in effetti in parte lo fa però lo fa sempre in una maniera simmetrica e questo va considerato non so se ho risposto alla sua domanda sì la ringrazio molto prego vediamo se c'è qualche altra qualche altra domanda qualche altra curiosità una domanda se è possibile certo volevo chiederle dal punto di vista dello spostamento della comunicazione politica diciamo dai media tradizionali quali giornali telegiornali e così via ai social c'è stato sostanzialmente un'eliminazione del filtro giornalistico cioè se una volta la comunicazione politica si strutturava principalmente tramite la mediazione di un taglio giornalistico a livello del giornale cartaceo comunque di un giornalista che agiva mediando quella che era l'opinione del politico anche tramite dibattito oggi è tutto più diretto a me è molto stupito anche la scelta del presidente del consiglio ad esempio in queste situazioni di aggirare sostanzialmente il mezzo del telegiornale che sarebbe quello più tradizionale o della trasmissione a rete unificate per le comunicazioni ufficiali e di preferire invece molto spesso una diretta facebook o i mezzi sui social network in questo senso come intervenuta l'eliminazione del filtro giornalistico rispetto a una comunicazione politica che mi sembra sempre più diretta sempre più aggressiva e da un certo punto di vista sempre meno controllata anche in termini di verità di quello che si afferma. Allora la ringrazio di questa sua domanda che è molto pertinente anche qui il fenomeno va inquadrato cercando di evitare eccessive semplificazioni nel senso che il quadro che lei ha ripropone è sostanzialmente corretto perché è sicuramente vero no che queste forme producono una disintermediazione detto questo però consideriamo due cose che la disintermediazione pura diciamo non è praticamente possibile mai perché in realtà anche sui social c'è una specie di reintermediazione perché comunque c'è la diretta facebook benissimo parte il commento di tutti quindi dentro al commento poi comunque ci sono quindi delle 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 interpretazioni no che circolano quindi comunque sia un certo elemento anche di reintermediazione cioè dopodiché è fuori di dubbio che prima un certo tipo di stampa era ehm davvero il canale obbligato no attraverso cui passava l'informazione cioè il politico se voleva parlare con i cittadini doveva ottenere il eh la copertura mediatica adesso può parlare con i cittadini al di fuori di quella copertura mediatica questo non significa però che ehm questo ha tolto di mezzo tutto quello che è il mondo giornalistico che rimane e che comunque offre comunque la sua interpretazione al di là del fatto che noi sappiamo bene poi che sì è vero c'è la diretta facebook però poi si va anche in televisione ci si fa intervistare cioè non è che il politico lascia fuori tutta questa parte però certamente questo è un canale parallelo rispetto però al quale poi comunque appunto ci sono diversi attori tra cui anche gli attori eh del giornalismo tradizionale ma anche attori che eh in qualche maniera entrano in gioco e e vogliono dire la loro che sono anche i cosetti influencer no cioè che possono piuttosto che aprire un blog cioè diciamo c'è stata una proliferazione delle interpretazioni e torniamo quindi al discorso di prima cioè aumentata moltissimo la complessità quindi in pratica oggi il politico ha senz'altro la possibilità diciamo di ehm di avere un modo di presentare il suo messaggio in una forma più diretta non c'è dubbio però poi comunque quello che di questo messaggio succede è molto articolato ecco cioè questo è quello che eh volevo dire e quindi questo è un elemento secondo me da da prendere in considerazione eh è ovvio che al politico può piacere ecco fare il l'intervento su Facebook eh il tweet cioè saltare diciamo i canali più intermedia degli intermediari più classici perché è evidente che appunto eh è più complesso fare la conferenza stampa e dover rispondere ai giornalisti no piuttosto che lanciare un messaggio e poi lasciare che diciamo quel messaggio abbia prenda la sua il suo per faccia il suo percorso tra eh le varie tifoserie che intervengono le interpretazioni dei giornalisti cioè che abbia poi la sua la sua storia però appunto non è che sia proprio semplice comunque ecco cioè non è è il discorso di prima non è facilissimo comunque in questo enorme rumore di fondo in questa enorme complessità poi lo stesso far spiccare il proprio messaggio anche se c'è una possibilità di eh di farlo nella maniera più diretta possibile dopodiché ci sono anche le forme di invece interazione diretta con i cittadini e che qualche politico mette in pratica no per esempio i cosiddetti live tweeting o le dirette Facebook in cui si rispondono alle domande dei cittadini questi sono altri tipi di 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 modalità interattive che in alcuni casi funzionano meglio in altri funzionano meno bene e che comunque costituiscono un po' un tentativo appunto di riuscire a saltare il filtro mediatico quindi sicuramente lei ha ragione la disentremediazione è un tratto della contemporaneità eh però appunto bisogna considerare anche tutti questi aspetti cioè non è così semplice dire non c'è più il filtro ecco e poi eh rispetto a al controllo delle notizie beh è chiaro che insomma lì bisognerebbe aprire tutto un discorso su appunto eh fake news e e simili cioè quindi quello è un altro tema ancora ovviamente c'è il tema del del controllo della veridicità delle notizie che circolano però ecco qui qui si apre un altro un altro reparto ecco che ha una sua interazione però comporta un altro tipo di 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 ragionamenti grazie mille per la risposta trovo particolarmente interessante soprattutto il fatto che la comunicazione diretta del politico tenda sempre di più talvolta a tradursi anche in vista di una sorta di fidelizzazione dei dei seguaci in una contrapposizione netta con il giornalismo nel senso che molto spesso c'è chi crede unicamente alle parole uscite dalla bocca del politico tramite i mezzi tramite i social media e vede invece la la notizia giornalistica come qualcosa di sostanzialmente costruito e falso e e la trovo un fenomeno molto interessante in considerazione del fatto che nella politica tradizionale ad esempio della della prima repubblica questa cosa non esisteva perché ovviamente il politico parlava unicamente per mezzo di sì però mi permetto di dirle cioè lei ha perfettamente ragione che la polarizzazione e soprattutto questa creazione di queste tifoserie è un tratto molto forte e anche molto interessante da da studiare perché secondo me presenta anche delle novità detto questo lei consideri però che in passato esisteva però anche l'idea diciamo del del mezzo di informazione partigiano eh cioè nel senso che non so esisteva il giornale di partito allora mi spiego meglio il fenomeno della cosiddetta selective exposure c'è sempre stato c'è da sempre cioè c'è da sempre un fenomeno per cui chi è molto molto coinvolto politicamente cioè vuole evitare di esporsi comunque delle notizie che non sono in linea con le proprie convinzioni cioè preferisce sostanzialmente rivolgersi a delle fonti di informazione amiche che va vengono a confermare le sue idee quindi fondamentalmente è chiaro che poi questa selective exposure si come dire trova una sua eh concreta realizzazione a seconda dei dei contesti a seconda delle opportunità quindi se appunto mezzo secolo fa più di mezzo secolo fa eh questo poteva tradursi nell'essere lettori del giornale di partito e credere a quello che c'era sul giornale di partito e non credere a nessun'altra informazione che venisse da altre fonti ecco questo era il mezzo con cui la eh si poteva applicare la selective exposure allora oggi il mezzo con cui la si può applicare è esattamente questo cioè di avere sostanzialmente queste echo chambers cioè questi gruppi chiusi dove appunto comunque c'è un continuo rafforzamento diciamo delle pro delle delle proprie eh convinzioni e rifiutando diciamo il ehm ad altre notizie che sono potenzialmente contrastanti eh di di penetrare no questo a questa specie di di muro che si viene a creare ecco è anche però vero che contemporaneamente bisogna dire che mentre c'è questa questo oscuramente fenomeno è anche vero però che la rete insomma favorisce più di altri ambienti la possibilità di incontrare anche mondi diversi dal tuo mh cioè rispetto magari alla situazione in cui uno viveva in gruppi sociali assolutamente emogenei e e quindi aveva pochissima possibilità di contattare persone lontane da sé con e quindi anche di sviluppare diciamo quelle che sono le cosette weak ties la rete per certi versi ti consente anche di entrare in contatto con persone diverse da te e quindi non di vivere solo in gruppi eh contra di caratterizzati da strong ties quindi cioè diciamo c'è un aspetto ci ce ne possono anche essere altri però sicuramente è vero che in rete questo fenomeno della della polarizzazione estrema eh di queste tifoserie e anche comunque di una di una di una partigianeria che si esprime anche in modo aggressivo è sicuramente un tratto insomma non a caso insomma studiamo molto uno dei fenomeni oggi tra i più studiati e tra i più attuali questo discorso anche del del late speech in rete insomma di questi fenomeni qui grazie mille prego eh grazie vediamo se c'è qualche altra domanda sembra che che la professoressa campus eh non 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 posso uscire c'è coprifuoco guarda è vero è vero io avrei un'altra domanda allora se posso ok mi ricollegherei proprio al discorso sui filtri della comunicazione politica e senz'altro ovviamente si può avere l'impressione che il politico comunichi in maniera più diretta ma a me sembra d'altra parte che sia anche sempre preponderante il ruolo di nuove cerche professionali come ad esempio i social media manager che indirizzano le scelte comunicative dell'uomo politico eh fornendogli degli indicazioni su come usare i social o magari facendolo anche al suo posto e magari diventano anche le persone su cui si tende a scaricare la colpa se fa qualche pasticcio ad esempio ricordo l'episodio del governatore della Liguria nel suo famoso stato sui anziani che non contribuiscono al settore produttivo del paese che poi si è giustificato dicendo che il suo social media manager aveva diciamo estrapolato male un discorso più ampio e questo mi evoca un po' l'idea di terzi che in realtà mediano il messaggio soprattutto tramite i canali social e magari il politico se non è troppo tecnologico non ha neanche la password di accesso per esempio e secondo lei quindi questo è un fenomeno attuale reale oppure diciamo da sempre la comunicazione politica è stata mediata da un entourage che si occupa ovviamente di propaganda e questo qua ma allora l'idea che non ci siano uomini soli o donne sole c'è sempre qualcuno intorno c'è sempre una tourage beh questo sì però è chiaro che appunto eh uno dei tratti della contemporaneità è la professione la cosiddetta professionalizzazione della politica cioè eh quando non so nella prima metà del novecento ma anche insomma i primi decenni immediatamente successivi ehm chi è che faceva la comunicazione cioè c'erano i partiti come abbiamo detto i partiti erano partiti solidi forti e probabilmente non è che il leader decideva cioè non è che il leader appunto stava lì e decideva ogni aspetto della propaganda c'era una riflessione interna al partito che quindi non era fatta da veri professionisti ma era fatta dai politici dopodiché eh il tema per esempio del del consenso della costruzione consenso dell'opinione pubblica prima dei sondaggi come si saggiava l'opinione pubblica c'era come dire una eh un un meccanismo per cui il partito tendenzialmente era anche distribuito sul territorio e quindi in qualche maniera c'erano le antenne che eh poi le sedi locali eh cercavano di di capire cosa succedeva cioè il livello nazionale traeva informazioni e si faceva la sua idea attraverso questi meccanismi che erano tutti meccanismi eh politici interni al partito non professionali cioè chi faceva politica faceva anche la propaganda non so se mi sono spiegata poi è arrivata la tv cioè è arrivata la cosiddetta era moderna della comunicazione la tv già iniziava a cioè la televisione in come dire imponeva dei suoi formati imponeva una sua logica e quindi bisognava saperlo usare cioè pertanto non è che bastava essere in politica da vent'anni per sapere eh per conoscere diciamo alcuni meccanismi della comunicazione televisiva o per saper costruire uno spot è chiaro che ci volevano dei professionisti no prima vi ho parlato di Margaret Thatcher Margaret Thatcher in Gran Bretagna è stata la prima a dire no ma qua dobbiamo assumere dei professionisti della comunicazione mh cioè non non può essere solo il partito che fa le cose e quindi questo è stato il primo passaggio cioè gradualmente se uno studia per esempio in vari contesti nazionali è interessante vedere anche come eh queste cose sono state assorbite con tempi diversi con disponibilità diversa c'è alcuni in alcuni partiti c'è stata più disponibilità appunto a recepire questi input in altri addirittura c'è il per cioè come dire chi stava dentro al partito guardava comunque anche a volte con un po' di sospetto queste persone che venivano utilizzate come consulenti quindi cioè ci sono state delle fasi di passaggio però inevitabili perché appunto man mano che si andava verso una eh un maggiore apporto tecnologico eh non si poteva fare a meno dei professionisti da un lato i professionisti della comunicazione televisiva poi però c'è stato anche tutto il mondo del sondaggio no tutto il mondo del sondaggio dell'analisi dei dati perché ricordiamoci che poi pian piano adesso l'altro grande fenomeno della comunicazione eh odierna è quello dei big data quindi bisogna anche saper usare big data interpretarli utilizzarli cioè eh c'è tutto questo e poi dopo sono arrivati i dopo è arrivata la rete quindi gli esperti della rete no quindi bisognava iniziare a saper usare tutte quelle tecnologie quindi pian piano diciamo come dire il l'entourage si allargava introducendo sempre nuove professionalità e eh però esiste anche sempre tendenzialmente una un coordinamento no cioè nella cosiddetta war room ehm ci deve essere qualcuno che coordina poi ci possono essere modalità diverse nel senso che studiando le varie campagne elettorali ci possono essere le campagne più eh centralizzate in qualche maniera e quelle invece magari anche un po' eh dove dove c'è un controllo meno meno diretto magari di un responsabile della campagna però in una campagna elettorale per esempio c'è una divisione anche del lavoro no e come lei giustamente menzionava è chiaro che negli ultimi anni per esempio tutti i social media manager sono diventati più importanti anche se in realtà non è che possono essere poi cioè non è che sono eh possono lavorare indipendentemente appunto per un discorso come quello che facevo prima anche di coerenza indipendentemente da un disegno più generale dopodiché sa eh quanto il politico è coinvolto in queste cose e beh qui soltanto ovviamente eh chi è dentro sa quanto eh è farina del sacco del politico la gestione di un social e quanto no però diciamo che quelli che sono i gli utenti più anche come dire più esemplari esemplari lo uso non nel senso di dire più più bravi ma semplicemente più caratteristici li riconosci perché naturalmente hanno un certo modo di stare sui social che è il modo della persona disinvolta che che li sa usare insomma appunto mentre apparimenti si vede anche invece il politico in qualche maniera ha dovuto aggiungere la presenza nei social al menu già piuttosto complesso delle sue dei suoi tanti incarichi dei suoi tanti ruoli che menzionavo prima quindi c'è eh logicamente qua uno spazio che può essere più o meno ridotto di terzi cioè c'è il politico che in realtà ama stare su social ama essere presente quindi ci mette anche molta della sua inventiva anche se probabilmente comunque ci sono dei consulenti c'è ci sono le persone che aiutano perché poi le le ventiquattro ore sono per tutti ventiquattro ore di tempo in una giornata c'è il politico che si vede appunto che tende ad avere un uso un po più assettico del dello strumento così come anche c'è chi preferisce uno strumento ad altri non so Trump per esempio è l'uomo di Twitter che non è una scelta scontatissima perché appunto Twitter poi è comunque uno strumento ehm più litario di altri quindi cioè non è neanche lo strumento diciamo principe di costruzione del consenso perché comunque un tempo si diceva che lui era molto più Facebook proprio perché aveva platee molto più ampie e oggi forse più ins cioè il lastro più nascente Instagram e però perché per esempio Trump è l'uomo di Twitter perché Trump ha capito una cosa che Twitter è sicuramente più litario nel suo platee però è uno strumento molto ehm molto potente per far arrivare il messaggio appunto in quegli ambienti che sono gli ambienti dove si parla di politica quindi c'è il tweet è il comunicato rapido per avere l'attenzione immediata di tutto l'ambiente mediatico cioè estremamente incisivo e funziona bene in quel senso lì cioè magari se tu vuoi parlare a una platea molto ampia di persone prendere varie fasce sociali eccetera eccetera Facebook è molto più adeguato perché è molto più diffuso Twitter lo è di meno però serve a un'altra funzione perché poi ogni social appunto ha le sue funzioni differenziate è chiaro per esempio che per una platea giovanile e per un uso di politica pop più o meno intelligente Instagram oggi è probabilmente meglio perché è lo strumento dell'immagine lo puoi giocare in vari modi cioè ognuno ha la sua funzionalità grazie prego grazie vediamo se se magari c'è ancora un'ultima domanda altrimenti penso che che possiamo interromperci ma ma se ci fosse eh chiaramente la la parola è è concessa no penso che possiamo che possiamo che possiamo che possiamo chiudere questo incontro e anzi grazie dell'attenzione perché comunque un'ora di mezza più o meno insomma in questo orario serale alla fine di una giornata che immagino sia stata in studio di lavoro e eh è comunque insomma una prova di di pazienza e di interesse io ringrazio la la professoressa campus per la sua disponibilità che immagino anche per lei sarà venuta dopo un'ora di di una giornata di di fatica e di lavoro e ringrazio tutte le persone che che si sono collegate e vi auguro una buona serata grazie davvero a tutti buona serata a tutti grazie grazie a te Alessandro e keep in touch a presto a presto ciao grazie